Le ultime vicende intorno alla Banca Popolare di Bari continuano ad impensierire anche sul comprensorio, visto che sono ben tre le filiali presenti, una a Villa Mare, una a Lago Negro e una a Polla, dopo la chiusura tre anni fa di quella di Sala Consilina. L'Associazione Vittime del Salva Banche ha indetto per mercoledì 18 dicembre una manifestazione di protesta degli azionisti di fronte alla sede principale della banca a Bari. Tutto è nato qualche anno fa quando l'Istituto propose a semplici risparmiatori un investimento speculativo senza metterli in guardia dei rischi che avrebbero potuto correre e rassicurandoli che avrebbero potuto rivendere le azioni. Negli ultimi anni, dicono dall'Associazione, questi titoli hanno però subito una svalutazione di oltre il 70%, non ci sono compratori e adesso le negoziazioni sono sospese con rischi reali che il valore delle azioni sia zero. Dopo le quattro banche venete, MPS e la Carige, accusano ancora dall'Associazione, anche il salvataggio di Banca Popolare di Bari fa emergere un sistema marcio del credito con i nostri governi che continuano ad intervenire solo a giochi fatti con l'ennesimo doloroso e dispendioso salvataggio dove tra l'altro non sempre vengono tenuti in considerazione i diritti dei risparmiatori. Le ultime notizie sulla banca parlano di un decreto legge al quale starebbe lavorando il governo che prevede un intervento sulle popolari con al centro quella di Bari, pare che però ci sia stato il veto di Renzi. Inoltre, sembra che il nuovo CDA abbia dato il via libera ad un'azione di responsabilità contro gli ex vertici dell'Istituto Finanziario, il che getta nuove ombre sulla passata gestione del credito. Su 12 amministratori, accusa ancora l'Associazione Vittime del Salva Banche, se ne individuano solo due. Ci sembra un modo per confondere le acque e tentare da parte dei nuovi dirigenti di recuperare un minimo di fiducia degli azionisti al fine di indurli a votare nella prossima assemblea la trasformazione in SPA, cosa estremamente pericolosa per loro che perderebbero così i propri risparmi e qualsiasi possibilità di intervento decisionale. Di qui la volontà di chiamare gli azionisti a fare fronte comune e di indire per mercoledì a Bari una manifestazione di protesta. Per chi volesse saperne di più può contattare l'Associazione al 371 3084 292.